Oggi andremo a vedere l'abuso preferito dei narcisisti, l'abuso ambientale. Questa è decisamente la forma di abuso preferita in assoluto dei narcisisti, perché non lascia traccia. Come si può manifestare l'abuso ambientale? Si può manifestare nelle porte che vengono sbattute in continuazione, nel fatto di fare sparire le cose che ogni tanto lasciate a destra e manca, usando la tecnica del gaslighting, perché il gaslighting si potrebbe vedere un po' come una sorta di strumento che viene usato per l'abuso ambientale. L'abuso ambientale è praticamente una cosa che è molto più grande. Riguarda proprio l'abuso fatto soltanto usando metodi psicologici, senza usare le mani, usando quindi rumori. Poteva anche manifestarsi quando state, per esempio, guardando la televisione e i narcisisti arrivano, spengono la televisione, oppure cambiano all'improvviso il canale che stavate guardando, perché questo serve a farvi capire che voi siete impotenti, non avete il controllo su nulla. Loro possono arrivare, quando cavolo vi pare, è decidere che cosa sia giusto, a prescindere dalla vostra opinione. È proprio un modo per farvi capire che voi valete meno di un oggetto e quindi vi stanno deumanizzando, praticamente. Questa cosa si può anche manifestare quando comprate qualcosa che avete a cuore, non lo so. Immaginiamo che avete risparmiato un sacco di soldi per tantissimo tempo, per potervi offrire un computer di un certo tipo. Vi comprate questo computer, lo mettete in un qualche posto della casa che vi piace, poi ci mettete magari uno sticker, no? Perché trovate che questo computer è più bello che uno sticker. Che cos'è che fa il narcisista? Arriva e toglie lo sticker e comincia a usare il vostro computer come se fosse un bene comune. Ogni tanto si metteranno anche a portare delle modifiche alle cose che ci avete messo dentro, senza chiedervi il permesso. Anche qua l'idea è di farvi capire che niente vi appartiene, tutto quello che avete appartiene al narcisista e a chi vorrebbe lui per estensione. Quindi se il narcisista decide che il computer appartiene anche a un suo amico, a un suo familiare, così è. E voi non avete nessuna voce in merito. E se proverete ad opporvi a questo tipo di comportamento, guai a voi perché lì potranno usare anche la violenza. L'abuso ambientale si può manifestare anche in questa maniera. Mettiamo caso che oggi avete deciso di comprare una seconda televisione da mettere magari in cucina o qualcosa del genere. Che cos'è che vi dirà il narcisista? No, la corrente costa troppo, ci sono troppe spese. Sapendo che comunque sarete voi a pagare la corrente, i soldi non sono un problema. Però lo stesso, i narcisisti vi faranno capire che questa cosa non si può fare, si inventeranno un insieme di giustificazioni che vanno in questa direzione, nella direzione del pensiere che stanno cercando di imporvi. Poi è lì che vedete una cosa strana. Non appena vi metteranno in condizione magari di riportare la televisione dove l'avete comprata in modo da farvi rimborsare i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Il giorno seguente, dai diciamo qualche giorno dopo, nella stessa settimana, che cos'è che faranno i narcisisti? Andranno loro a comprare una televisione per fare esattamente quello che volevate fare. Cioè, vedete, questa è una forma di abuso ambientale. Il discorso è sempre di farvi capire che voi non decidete niente. Voi non avete il controllo su nulla. Ogni cosa che fate va annulata e rifatta dal narcisista, eventualmente in meglio. Praticamente stanno negando la vostra esistenza. È un modo per negare la vostra esistenza in quanto individuo, in quanto persona in grado di prendere decisioni per conto suo, in quanto persona che ha anche la capacità di avere dei gusti propri. Perché anche i vostri gusti vi vengono rubati. Quando i narcisisti annulano quello che avete appena fatto, rimproverandovi, dandovi tutte le colpe del mondo. E poi lo rifanno loro. Che cos'è che stanno facendo in realtà? Vi stanno rubando la vostra identità, vi stanno rubando i vostri gusti. C'è anche questo meccanismo che è nato, vedete? E perché c'è questo meccanismo? Perché sotto sotto c'è una fortissima invidia nei vostri confronti. C'è una fortissima voglia di essere voi. Per questo è che i narcisisti, oltre ad abusare delle loro vittime, tendono anche a rubare l'identità delle loro vittime. Rubando loro i loro gusti. Rubando loro le loro idee. Perché c'è una cosa che bisogna dire. Perché il narcisista vi sceglie? Vi sceglie perché sa che siete migliori di lui o di lei. Vi sceglie perché sa che avete una vita che loro non avranno mai. Il fatto di vedere questa cosa gli dà fastidio, gli crea invidia, gli crea gelosia. Pertanto, per potersi togliere questo fastidio di dosso, che cosa fanno? Una volta che vi agganciano, si mettono a distruggervi. Si mettono ad annullare tutti i vostri traguardi sociali. Si mettono a dirvi che non valete nulla, che non avete nessun merito, che tutto quello che avete vi è stato dato, o dalla Dea Fortuna, o da persone che hanno avuto pietà di voi. E tutte cose che vanno in questa direzione, voi non avete nessun merito che nasce dal fatto che avete talento, dal fatto che vi siete dati d'affari per raggiungere i vostri traguardi, e tutte queste cose. Queste nozioni vanno completamente cancellate, e una volta che vengono cancellate, vengono rubate. Ed è lì che comincerete a vedere i narcisisti atteggiarsi come la persona che eravate, prima dell'inizio del loro lavoro nocivo nei vostri confronti. L'idea di fondo è di disorientarvi e mettervi in una condizione in cui non avete mai certezza, avete sempre paura di fare qualsiasi cosa, perché date per scontato che falirà. Non perché siete sfigati o sfortunati, ma perché il modo in cui intraprenderete questa cosa, farà sì che non riuscirete mai a portare la cosa a termine. Perché la farete con la paura, la farete con incertezza, la farete con la convinzione che sarà un falimento, e qualsiasi cosa di norma che viene fatta partendo con l'idea negativa, falisce. Quindi vedete, qua si innesca un modo di pensare che diventa come un serpente che si morde la coda, perché volete fare una cosa ma dite intanto se la faccio falirò. Provate magari lo stesso a farla, ma siccome siete talmente convinti che falirete, non ci mettete l'impegno giusto, non ci mettete la convinzione necessaria, e alla fine automaticamente falirete. E quando succedono queste cose, è la prova che i narcisisti hanno assunto il controllo sulla nostra vita, hanno assunto il controllo anche sulle cose che vogliamo fare, perché loro ci hanno convinti che siamo un falimento, ci hanno convinti che è inutile che proviamo a fare qualsiasi cosa perché non serve a niente, quindi siamo già impostati per falire. Siete in una situazione in cui vi stanno capitando un insieme di cose, e chiedete un consiglio al narcisista in modo da capire come muovervi, visto che comunque si pone come la persona che sa tutto, come la persona dalla quale dovete andare se avete bisogno di aiuto. Bene, che cosa fa il narcisista in questa condizione? Vi dirà, le cose non funzionano perché è un falimento, sottintendendo che siete voi il falimento, non è la situazione, il problema siete voi. I falimenti ci sono perché voi decidete di intraprendere alcune attività, non sono le attività in quanto tali che sono potenzialmente portatrici di falimenti, no. Il falimento siete voi. Questo è il messaggio che il narcisista vi sta dando quando vi dice questa cosa, nel momento in cui provate a chiederle un consiglio, perché non hanno nessuna volle di vedervi riuscire, assolutamente. Un'altra forma di abuso ambientale potrebbe essere questo. Immaginiamo che siete tre persone in macchina, il narcisista è quello che sta guidando e voi state parlando con il passaggero che si trova di fronte, state parlando di una cosa lì così e la persona che si trova davanti vi fa una domanda, ma non riuscite a sentire perché magari c'è un camion che è passato o c'è qualcosa. Che cos'è che fa il narcisista che sta guidando? A una certa si mette orlare dicendo, ma che cos'è? Sei sordo? Non riesce a sentire? Vedete? Cose del genere. Invece semplicemente di considerare il fatto che è passato il camion, c'è stato troppo rumore e che bisogna rifare la domanda in modo che venga sentita meglio. No, il narcisista si approfitta di qualsiasi situazione in cui avete dubbio, in cui non riuscite a capire qualcosa, ma non perché voi non capite nulla, ma perché ci possono essere delle situazioni in cui la ricezione del messaggio ha subito interferenze. Loro invece si approfittano di queste sottili situazioni per farvi capire che no, non si tratta dell'interferenza, si tratta di voi, il problema siete voi, e dalla mattina alla sera siete voi il problema in continuazione. Questa è una forma di abuso ambientale quando si usano anche gli elementi naturali, normali, che possono capitare ogni tanto, per farvi capire che il problema siete voi. Oppure, rimanendo nelle situazioni in cui chiedete un consiglio al narcisista per qualcosa che volete fare, o perché avete deciso magari di distaccarvi un attimo, no? Gli fate notare questa cosa dicendoli, guarda, io voglio prendermi un attimo un momento di riposo, per distaccarmi un attimo. Che tipo di risposte che vedono i narcisisti in questo caso? Che cos'è? Vuoi distaccarti perché devi andare in prigione? Cose del genere. Quando nella vostra vita non avete mai compiuto nessun gesto, nessuna azione che abbia potuto avere un esito simile di farvi finire in prigione, quindi vedete, questo è abuso ambientale. Quando si fanno questo tipo di insinuazioni che non stanno né in cielo né in terra, perché sono molto rivelatrice dei pensieri nei vostri confronti che la persona con la quale state parlando ha. Quando un narcisista vi augura, scherzando, di finire in prigione, in realtà è quello che vorrebbe che la vostra vita fosse. Vorrebbe che la vostra vita fosse completamente limitata, completamente incapacitata, come qualcuno che sta in prigione. Quindi ecco fin dove si possono spingere gli abusi ambientali. Sono quindi un insieme di abusi che non sono di natura fisica, ma soltanto psicologica. Questa era la descrizione del abuso ambientale. Questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata e ci vediamo alla prossima.